Gentili telespettatori, buona giornata, rassegna stampa di oggi, domenica 6 novembre 2022, Corriere della Sera, pace, cortei e polemiche. PD, 5 Stelle, CGL a Roma, siamo in 100.000, a Milano, calenda sfila con Moratti e Cottarelli. Conte attacca il governo, navi ONG sbarcano donne e minori. Il piano Biden-Anti-Trump per i sostegni all'Ucraina. E il leader 5 Stelle fa la sua peazza mentre Letta è contestato. E vediamo questa vignetta, non siamo più la Repubblica delle Banane, perché diceva Meloni, e si vede un banchetto con i Meloni, insomma. Poco divertente, direi. Andiamo a vedere la Repubblica contro la guerra, le manifestazioni che non servono comunque a nulla. Energia e fisco, gli industriali criticano il governo, dal PD alle Farfalle, quanto costa la vittoria, di Concita de Gregorio. E poi andiamo a vedere la stampa. La pace siamo noi. Beh, una destra sospesa tra Tambroni e Berlusconi. Non so cosa voglio dire. Meloni va in Egitto, verdice con Al-Sisi e Al-Tolà, Al-Cop 27. E per salvare il clima gli stati riscoprono la vera fraternità. Piantedosi sui migranti, non cediamo. E qui c'è un'altra vignetta, però troppo piccola, non si capisce. Andiamo a vedere Libero Quotidiano, la manifestazione dei paci finti. Conte Putin invade il PD. Letta sfila con i Cinque Stelle, che gli urlano il leader pentastellato, utilizza la marcia contro la guerra per provare a scalare la sinistra. Per lui solo applausi. Enrico Contestato, in piazza slogan contro la Nato e il governo. Andiamo a vedere il giornale. La guerra dei pacifisti, sinistra divise in piazza, Rome bandiere russe e insulti a Nato, governo eletta. A Milano calenda accusa Conte e canta bella ciao. Crosetto sull'invio, confronto con il Parlamento. E poi vediamo Calderoli, ora l'autonomia, quante manine dentro i ministeri. Lite con Moratti, tutte scelte erano condivise. Migranti, sbarca solo chi ha i requisiti, la crisi delle navi in Sicilia. Piantedosi apre ai fragili, degli altri se ne occupino le ONG. Meloni di corsa sono assillata dalle emergenze, le prossime mossa. E gli 80 anni di Sandro Mazzola, Juve Inter è la mia partita. Andiamo a vedere il fatto quotidiano. La pace alza la voce, siamo 100.000, piazza strapiena Roma per il cessato il fuoco. Divisi sul decreto, Conte applaudito, Letta contestato. Andiamo a vedere la verità. Cadono le balle vaccinali, insistono, la crociata degli ordini contro i disobbedienti, 20 procure all'assalto del reddito. Truffe e omessi controlli, sospetti su metà dei versamenti, addirittura sospetti che la metà dei fruitori del reddito di cittadinanza lo facciano in maniera illegale. Riunione delle magistrature contabili di tutte le regioni italiane, pronte un'azione comune per perseguire il danno erariale causato dall'erogazione di milioni di sussidi di cittadinanza non dovuti. Sotto esame le decisioni prese dai vertici dell'Inps. I conti della manovra, 15 miliardi in bollette, ma si interverrà pure sul lavoro e flat tax. Trivelle, cosa cambia? Ora servono accordi con i vicini di mare. ONG, ormai è un assedio, attorno alla Sicilia volteggiano quattro navi. Humanity, Geo Barents, Ocean Viking, Rise Above, premono per un attracco e arrivano pure le barche a vela cariche di migranti. Vediamo il tempo, divisi pure sulla pace, la sinistra fa tutto da sola. L'opposizione litiga anche sul no all'Ucraina, i leader mai così lontani. A Milano si sfila per Kiever, cartelli antinato a Roma e contestazioni a Letta. Calenda attacca Conte, l'ex premier spara a zero sul corteo del terzo polo. Ostacoli insidiosi per Meloni, cara Giorgia stai attenta ai marziani, scrive Luigi Bisignani. E poi prorogato lo sconto sulla benzina nel decreto aiuti, il taglio delle accise fino al 31 di dicembre. E poi sempre qua a Roma una discarica a cielo aperto. Vediamo il messaggero, migranti, patto con l'Unione Europea ma linea dura con le ONG. L'intervista Antonio Tajani, l'Europa batta un colpo, superi gli egoismi, via libera all'attracco della nave Humanity One, i vulnerabili saranno sbarcati. Pace, la piazza dimentica Putin e grida solo contro la Nato. E vediamo poi sul Nadef. Meloni basta bonus inutili, sconti fiscali alle imprese sui premi. Picchetto frattin con il gas nazionale al sicuro le nostre filiere strategiche. Andiamo a vedere il domani. La COP27 ha l'obiettivo più difficile, passare dalle parole ai fatti sul clima. In centomila sfilano a Roma per il cessato il fuoco, ma non siamo equidistanti. Sul deficit il governo corre più rischi di quanto dice. E poi il sole 24 ore, IRPEF evasione autonomi al 68,7%. Quindi un'imponente evasione per chi è autonomo. Bonomi, bollette, beni, gli aiuti. Adesso il taglio al cuneo fiscale. Ma quel famoso taglio al cuneo fiscale è una gigantesca, immensa presa in giro. 33 euro in più a chi guadagna 1000 euro. Pertanto chi è in povertà lavorativa rimarrà ovviamente in povertà lavorativa. Quindi quel famoso cuneo fiscale che doveva sostituire il salario minimo è una presa in giro. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. ricordatevi che c'è anche Tele Italia seconda rete e l'altro canale in cucina con Carla. Carla con la K se no non lo trovate. Grazie a tutti e arrivederci a presto.